ciao a tutti ragazzi io sarò tommaso e come andate le vacanze tutto a posto si pure io allora sono ritornato a fiumicino perché basta ma basta devo giocare con il tento switch questo è il tento switch allora stavo giocando a fifa 20 aspetta guardate questo è la tv grandissima sony l'abbiamo pagata un botto c'è un botto di fifa 19 super maio taluzio ma super maio odyssey maio più api second potto perché non spada super pepe in maio origami è il rio altro che mio gioco preferito questo non ho ancora iniziato minecraft e questo è tutto ragazzi ci vediamo domani